forse ho rimediato un'altra motina bellina da provare dai io poi l'etichetta non l'ho presa perché tu ce l'avevi già? sì sì ce l'ho io ma te hai pagato 10? no 20 infatti 20 con la moto tua ma glielo ho detto guarda sono con mio amico come è prima? ho dato il biglietto, ma questa andrà a pagare 20 euro, ma che c'è? no, esatto pagato 20 euro mi dà l'etichetta e la metto dalla tua almeno giriamo con tutte proviamo un altro mezzo? sì, sempre pit bike, non etm ma questa volta è un honda cr85 2004 ciao 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 che bella bella guarda sai che di motore forse mi sembra che la più forte è questa questa piccia solo l'unica roba che c'ha l'ha testato VHM allora sotto o non va? eh non ha una valvola di scalco rispetto al PM e al KTM questo sotto va poco però quando è nel regime giusto va molto forte secondo me in alto pinge di più dell'altra dici? sì sì però ma questa è verificata l'unica roba no ha il pistone ma no mi è piaciuta devo dire la verità mi sono spensioni molto adesso è un po' da capire magari adesso che ho provato questa e poi riprovo quella forse cambi idea però per ora mi ha dato questa sensazione qua ma voi il freno dietro come cazzo fate giallo? io non mi ah ecco ecco che dici che dici? bella bella molto forse addirittura guarda sotto questa va meno da sotto se sei un po' sotto copia però quando parte va veramente forte va anzi secondo me in alto va più forte dell'altra però quell'altra ha più corpo è più pronta ecco in più questa è un pochino più legnosa da inserire o dei cambi di direzione però forse è più stabile invece quell'altra è molto che bisogna stare attento insomma ecco però bella mi fa mal le gambe mi fa mal le gambe mi fa mal più fraidino si sono fraide va a vedere se sei grosse aspetta guarda come scattacco sulle destra ecco qui posizione regolare guarda come scattacco cavallo РЕ never E' molto difficile ho scritto tutto molto bello, bello, bello vedi la sensazione Ma non vale esserci solti questi ragazzini Siamo giunti alla conclusione anche di questo video Io ringrazio soprattutto Kevin Questo scenario forse lo avete già visto È un déjà vu perché alla fine queste due moto Io l'ho provata nello stesso giorno Quindi è chiaro che ho sempre la stessa tuta Non se ne è raccorta nessuno Non è un sosia ma è il suo fratello È un fratello gemello Quindi hanno due moto E mi hanno fatto provare tutte e due le loro moto Quindi li ringrazio sia Robert sia Kevin Per tutte e due le moto Che mi sono piaciute tantissimo E mi sono divertito Quindi grazie ancora Spero di rivedervi in pista Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanellina E poi Ti segui E mi raccomando commentate Qualsiasi cosa Ciao ragazzi alla prossima Ciao! 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 Pa, pa, pa.